Stiamo lavorando anche per rivedere il tetto di spesa assunzionale che è presente da oltre 20 anni, ci stiamo lavorando sin dal primo giorno in cui si è insediato questo nuovo governo, io sono sicuro che avremo un allentamento di questa morsa entro l'anno per poi arrivare appena possibile all'abolizione completa del tetto di spesa perché è fondamentale avere forze nuove, nuovi professionisti sanitari da mettere nel sistema sanitario nazionale. Senza questo non possiamo dare linfa al Servizio Sanitario Nazionale, senza questo non possiamo neanche ridurre in maniera significativa la lista di attesa.